Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori in direzione Firenze, 3 km di coda tra Empoli e Montelupo-Fiorentino e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra-Fiorentina, mentre in direzione Livorno c'è un chilometro di coda tra Ginestra e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In A1 per incidente al chilometro 337 ci sono 3 km di coda tra Inciso-Reggello e Arezzo verso Roma e 3 km tra Arezzo e Valdarno verso Bologna. Sempre verso Bologna rallentamenti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!